Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì mattina è il 6 gennaio e oggi portiamo un vlog un po' speciale perché non ci siamo solo io e la Vicky ma anche un'altra persona che è Lara, una ragazza che viene nel nostro maneggio e nulla, vi portiamo con noi in tutta la giornata Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog, ho sellato atlantica e adesso proprio in questo instante andremo in campo Buongiorno a tutti 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 Buongiorno a tutti